Circa 30 ragazzi provenienti dai licei Nolfi-Apolloni e Torelli, sezione di Fano e Pergola, si esibiranno sabato prossimo, 16 marzo, al Teatro della Fortuna, in occasione della commedia teatrale Maria Risorta, il protagonismo delle donne nella marineria fanese. A questo numero si aggiungono poi 12 giovani scenografi, sempre provenienti dagli stessi licei che hanno curato l'allestimento di questa messa in scena con inizio alle ore 21. Che cosa vedranno gli spettatori in questo spettacolo? Maria Risorta è un racconto che mette assieme tante storie legate alla marineria fanese e all'universo dei Portolotti, è un racconto che abbraccia un periodo storico che è quello che va all'incirca dal 1938 fino al 1948, quindi siamo vicino e poi superiamo la seconda guerra mondiale e inizia con l'asilo del Porto e nel voler restituire la missione fatta dalle istitutrici dell'asilo del Porto per poter permettere che i figli di Portolotti avessero un'istruzione e poi continuiamo attraversando un periodo storico complesso, ricco che si intreccia con la grande storia. Maria Risorta entra all'interno perché viene eletta da uno dei personaggi e restituisce quindi tutta una serie di suggestioni legate al Porto, legate al mare, legate anche a quello che c'è stato, all'interno di una storia fatta di riscatto, di volontà di andare altrove ma allo stesso tempo di non perdere le proprie origini e il posto nel quale si è nati. Per me e per noi è uno degli appuntamenti più importanti ai quali lavoriamo da un anno oltre un anno e mezzo, è l'appuntamento più strutturato di quest'anno della rassegna in pronte femminili, è un appuntamento che è stato costruito per le scuole, quindi un grande progetto di rivalutazione e di indagine della storia della nostra identità territoriale cittadina con il grande protagonismo dei più giovani e delle più giovani che interpreteranno queste storie. Lo spettacolo è il sabato 16 marzo al Teatro della Fortuna, ci saranno l'ingresso in vendita al Botteghino di Teatro della Fortuna. Vi aspettiamo per vedere la Maria Risorta messa in scena dalle ragazze e dai ragazzi dei licei Nolfi e Polloni e Torelli.